In molti mi state chiedendo in questi giorni, in queste ore, quando il Parlamento approverà finalmente la legge sulla legittima difesa, anche qua dopo anni di chiacchiere, entro febbraio. L'obiettivo è che il sacrosanto diritto alla legittima difesa delle persone per bene, dei cittadini per bene, dei commercianti, degli imprenditori, degli agricoltori per bene sarà riconosciuto dalla legge italiana entro il mese di febbraio. Quindi per il rapinatori, il mestiere del rapinatore sarà un mestiere un pochino più difficile, un pochino più rischioso. Anche in questo caso dalle parole ai fatti, a neanche otto mesi dall'inizio dell'avventura di questo governo. E le opposizioni cosa fanno? Il PD cosa fa? Organizza le marce per gli immigrati. Leggevo oggi sui giornali che il PD a Milano, il sindaco Sala, l'assessore Maiorino, quindi i renziani, i martiniani, gli orlandiani, gli zingarettiani, i marziani, i venusiani, saranno a Milano ai primi di marzo per una grande marcia a favore dell'immigrazione.